Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale Allora raga, prima di iniziare il video volevo ricordarvi che ci sta in corso un contest sia sul mio canale che su quello di Maxi Milk, vi lascerò il link in descrizione e anche in descrizione vi lascerò il link del gruppo Telegram dove anche lì si terrà un contest è poca roba sul gruppo Telegram però è sempre soldi gratuiti quindi se volete unirvi al nostro gruppo Telegram passate in descrizione Bene raga, possiamo passare direttamente al video Ari eccoci qua, ciao a tutti e ben ritornati sul canale Allora faccio questo video perché siccome tanti dicono no ma il tuo afterpatch non funziona più, è stato patchato, bla bla e bla bla questo è l'afterpatch che avevo trovato per la BMX per mettere la BMX dentro la base operativa e con questo si può fare anche le auto in God Mode praticamente vi servirà l'oppressor, vi servirà l'Avenger e base operativa come vedete l'ora ragazzi, l'ora che è molto importante e l'ho fatto stasera, non so quando caricherò il video perché non lo so comunque per vedere il video completo potete andare tra i miei video e lì ci sta afterpatch BMX dentro la base operativa per mettere la BMX io oggi faccio il God Mode delle auto tutte le auto in sessione ragazzi sto parlando praticamente io vi do la possibilità di avere in God Mode tutte le auto in sessione cioè qualsiasi auto voi ci salite all'interno sarà in God Mode tranne quelle della base operativa non chiamate quelle della base operativa perché vi riporterà indietro nella base operativa il resto potete prendere auto da per strada come ho detto potete prendere auto personali, moto personali e i aerei ragazzi non vanno in God Mode perché non possono entrare nella base operativa giustamente comunque come vedete anche io ci provo e ci riprovo più volte in pratica ci ho messo circa 3-4 minuti ci ho provato 4-5 volte prima che mi usciva il glitch però il glitch funziona e funziona benissimo non so perché la Rockstar non lo paci perché a me sinceramente questo mi ha rotto veramente tanto le paline ma tanto tanto perché lo deve pacciare punto cioè è impossibile che non lo pacci sto glitch comunque alla fine ci riuscirò a scendere dalla moto come vi ho detto andate a vedervi il video vi lascerò pure questo di video in descrizione così vi andate a vedere l'after patch per come mettere la BMX nella base operativa da soli praticamente da soli e questo è il video per farvi vedere come avere qualsiasi auto in God Mode in una sessione senza l'aiuto di nessun amico ho un altro God Mode delle auto ragazzi che si fa con l'Eclipse con l'Eclipse Tower però si ha bisogno di un amico in sessione quindi quello non so se lo porterò sabato o domenica non so sicuro però come vedete alla fine ci sono riuscito premendo tutti i tasti insieme facendo cazzate e roba del genere e comunque come vedete mi ha dato abbastanza tempo per uccidermi ragazzi quando sono spawnato al Monte Ciliano non so perché questa cosa però mi ha dato abbastanza tempo adesso vi farò vedere che il Criminal Enterprise Pack è bugato come vedete non ci si può cliccare sopra in pratica voi da qui dovete andare col colpo di Lester all'appartamento entrare, prendere la BMX tirarla fuori e cazzate il genere invece se volete le auto in God Mode ragazzi dovete avviare una missione da Rockstar o una missione cioè una gara qualsiasi proprio qualsiasi cosa io in effetti ho avviato una mia gara che mi da praticamente errore quindi ho avviato una mia gara però funziona anche con le gare e le missioni della Rockstar basterà che quando siete nella lobby premete cerchio e uscite fuori comunque ragazzi vi ricordo di nuovo passate in descrizione perché c'è il link del contest mio che regalerò una Playstation 3 un account glicciato e una sharecard da 15 euro Maxi Milk regalerà un account glicciato e se vi volete iscrivere al gruppo Telegram lì si regala un codice PSN da 10 euro per adesso più in là vedremo dipende quante persone entreranno nel gruppo e quanti ne saremo e io cercherò di fare questo tipo di contest ogni fine settimana quindi vedete voi insomma chi altro è che vi regala tutte queste cose su GTA che io non l'ho sentito in giro non l'ho sentito e sinceramente penso che non lo sentirò mai perché come ho detto Playstation 3 account glicciato e sharecard da 15 euro e 10 euro sul gruppo Telegram e Maxi Milk un altro account glicciato vuoi dire dove le trovate tutte queste cose iscrivetevi ai nostri canali e vedrete che ce ne saranno anche tante altre belle sorpresine per voi come vedete ragazzi comunque le auto vanno in God Mode qualsiasi auto io prenda non importa una volta che ci sono salito all'interno vado su tasto opzioni vado su Criminal Enterprise ritorno indietro e sarà in God Mode che sia un'auto da strada che sia un oppressor che sia una macchina personale che sia una moto un faggio un appetto ragazzi sarà in God Mode se voi fate questo glitch se invece vi ho detto volete il glitch della BMX all'interno della base operativa passate sempre in descrizione che lo lascerò lì comunque penso che per questo video sia tutto spero che non mi scrivete ancora sotto il video può anche se mi scrivete se io vi dico che non è pacciato non è pacciato perché ogni tanto controllo forse non controllo ogni giorno forse non metterò sul titolo pacciato perché non me ne vado a metterlo però se qualcuno me lo chiede sul commento non mi fa un'affermazione gli rispondo comunque per questo video è tutto vi ricordo passate in descrizione e vedete i contest vedete il gruppo Telegram vedete quello che cavolo vi pare per fine settimana vi porterò un glitch sempre delle auto in Godmode con l'Eclipse e con un amico ragazzi forse ci sarà anche qualcosina con la base operativa quindi per questo video è tutto ragazzi noi ci si vede ad un prossimo video ciao a tutti grazie a tutti